qui è che è il spettario conferenzi che le fai a lei ma d'autore ma per te la io non mi afforlo a favore more io dai che è il programma di oggi che è davvero un po' così dai miei mofoni che hai che è fiafini che fa caccio e t'autore ma l'ora che non mi afforlo a molto gara mai di lei non mi affiori non è un po' così ma basta io, io fai è... è un po' così che è un po' più che è l'ora non ti ho senza quindi, c'è un po' così ma un po' così ma un po' così non è una cosa non ci stai quindi, non mi afforreli quindi, a vedo Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.